Andromedani, noi siamo Andromedani. Bip, attivazione, bip, siate pronti, bip, perturbazioni elettriche, bip, attivazione di massa, bip, operatori di luce, siate pronti, siate pronti. Questo è il consiglio di Sirio. Arrivando, stiamo arrivando, gioite, oggi, ci commentiamo con voi. Tutto sta andando secondo il piano, tutto sta andando secondo il piano. Ci sarà un'attivazione di massa, ci sarà un'attivazione di massa. Non abbiate paura. Mantenete le posizioni, mantenete le posizioni e basta. Tutto va bene. Tutto va bene. Siamo qui. Siamo qui. Questo è il comando di Ashtar. Arrivando. Questo è il comando di Ashtar. Arrivando. Con l'equipaggio e le navi che ci seguono. Tutto va bene. Tutto va bene. Non abbiate paura. Ci sarà un'attivazione di massa. Ci sarà un'attivazione di massa. Mantenete le posizioni, mantenete le posizioni e basta. Brillate, fate brillare la vostra luce e basta. Siate pronti a svegliarsi. Tutto va bene. Tutto va bene. Questo è Ananda che arriva con amore, con grazia con il cuore aperto ti abbraccia in questo nuovo mondo, in questa nuova fase del processo di ascensione. Finalmente è arrivato il momento per un grande upgrade e il grande lavoro del pianeta Terra. Avete tutti fatto eccezionalmente bene. Finalmente è arrivato il momento per l'attivazione di massa. Dovete mantenere le posizioni e fate brillare la vostra luce. E' arrivato finalmente il momento di svegliarsi nel mondo. Il mio amore è vostro, fratelli e sorelle. Il mio amore è sempre stato vostro. Non abbiate paura e mantenete la posizione. Mantenete semplicemente la posizione. Ricordatevi chi siete. Ricordatevi l'amore nei vostri cuori. E semplicemente mantenete la vostra posizione. Sempre.